Siamo con Valerio Baldovin, il coach di Tonno Callico Vivo Valencia, una vittoria questa sera contro Verona, un 3-0, in ultimo match per poi dare avvio al campionato. Un tuo commento sulla partita di questa sera? Diciamo che per noi è stata una partita chiaramente importante perché è la nostra prima vittoria, ci tenevamo molto a riuscire a fare un ulteriore passo avanti sui nostri percorsi di crescita come gruppo, come gioco, come unità di gioco. Per noi è stata una partita sicuramente importante, anche se chiaramente non abbiamo giocato benissimo, ci sono state ancora diverse imperfezioni, però pian pianino si vede che il lavoro che stiamo portando avanti sta iniziando a dare sui termini fuori. Prima partita di campionato contro una di quelle dei top team, contro Perugia. Come arriverete e con quale spirito affronterete questa partita, ma in generale tutto il campionato? Beh, la partita con Perugia è chiaramente una partita difficilissima sotto il profilo tecnico, sotto il profilo tattico, veramente un po' più semplice sotto il profilo della psicologia, della gara, nel senso che abbiamo il top e l'intra perdere. Il campionato noi lo vogliamo affrontare chiaramente partita per partita, cercando di migliorare sempre le nostre prestazioni. Sappiamo che è un campionato molto difficile, molto complicato, dove la qualità della nostra palla a volo è testata ogni domenica e dove se non riusciamo a performare in maniera corretta si perde più o meno, non solo da Perugia, ma più o meno da tutti quanti. Un'ultima cosa, tu lasci il Nord Italia per arrivare al Sud, quali sono le tue emozioni in una squadra che comunque la vedevi sempre come avversaria? Ho anche un ambiente che vedevi sempre come avversario. Per me è chiaramente un po' tutto nuovo, è un'esperienza molto importante, molto bella. Chiaramente c'è una parte di me che vuole portare il mio metodo, però una parte di me è anche che il mio metodo funzionava dove ero prima, adesso devo quindi trovare altri sistemi e altre strategie per riuscire a portare, a far performare al meglio la mia squadra. E per il pianino sto lavorando con i ragazzi su questa curva di filosofia. Ti ringrazio e in bocca al lupo per il campionato. Grazie.